e 28 paolo paolo 28 29 scusatemi non vi devo disturbare tranquillo non hai disturbato ma gli altri due dai ma che sbaglio ecco facciamo un piccolo guess age aurora secondo te quanti anni ho quanti anni a jody quanti anni a paolo e lucia stessa identica cosa 21 entrambi voi due sopra 28 paolo paolo 28 29 lucia allora entrambi 21 22 ok aurora 26 26 26 ok facciamo outing paolo tu quanti ne hai aurora io non ho 26 scusa no ma è colpa dell'attacco sei tranquilla è colpa tua l'attacco